L'esperienza di Fano e il ruolo dei comuni nella cooperazione territoriale. È stato questo il titolo del convegno che si è svolto nei giorni scorsi alla Mediateca Montanari. L'obiettivo è stato quello di illustrare i risultati del progetto Startup Tunisie, cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e che vede Fano comune capofila. Si tratta di una iniziativa finalizzata a promuovere opportunità lavorative in Tunisia attraverso la creazione di imprese del sistema agroalimentare, ma favorendo al tempo stesso uno scambio di conoscenze e di nuovi rapporti tra aziende marchigiane e tunisine. Il ruolo del Consorzio Marche Biologiche è stato quello di accompagnare queste giovani imprese che volevano avviare la loro attività e quindi abbiamo accompagnato queste aziende sia nella conversione al metodo biologico, sia nella pianificazione degli investimenti con l'approccio di filiera. Occorre andare sul mercato con un prodotto finito e coniugare e integrare tutte le fasi. Quindi produrre, certo, ma anche trasformare, ma anche commercializzare. Folta la platea dei relatori, da Marina Sereni, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, agli amministratori locali, dai tecnici all'Università di Urbino Carlo Bo per il ruolo di ricerca, fino alle cooperative coinvolte nell'iniziativa. Ad illustrare nel dettaglio i risultati conseguiti è stato il responsabile del progetto Ivan Antoniozzi. In termini numerici 16-18 imprese attivate in start-up d'impresa in Tunisia, nel comparto di agricoltura biologica, altre imprese già costituite con un precedente progetto comunitario, rinforzate negli equipaggiamenti e nelle competenze. Quindi di fatto risultati assolutamente concreti nell'ambito dello sviluppo economico in un territorio, che è quello a nord-est della Tunisia, del governatorato di Genduba. Noi in particolare lavoravamo sulla municipalità di Tabarca in fortissimo ritardo di sviluppo. Poi ci sono tutta una serie invece di risultati derivati, come quello appunto di contenere anche l'immigrazione. Lo scopo anche di questi progetti è rafforzare ovviamente lo sviluppo, l'economia, l'occupazione in quei territori. Se vogliamo aiutare i paesi sottosviluppati, ha poi aggiunto il sindaco Massimo Seri, dobbiamo farlo adeguando le loro competenze nel mondo, ha commentato il primo cittadino. I grandi successi partono dal comportamento dei territori. Mi piace sottolineare un aspetto fano internazionale. Nel caso specifico nel mondo dell'agricoltura, partendo dalla nostra eccellenza, che è quella del biologico, sono state coinvolte una serie di soggetti e il progetto ha portato a far nascere delle start-up in Tunisia. Ma il ruolo degli enti locali è importante perché sempre più sono strategici. È vantaggioso anche per noi fare queste cose. Perché quando aiutiamo chi ha meno, chi sta male, significa aiutarli a crescere. Perché altrimenti poi le ripercussioni ricadono anche a noi che siamo lontani. Pensate solo a quei fenomeni migratori dati dall'economia, dalle crisi climatiche, dalle carestie, dalle guerre. Quindi se non li aiutiamo là, poi in realtà troveremo altri tipi di conseguenze. Quindi sta in una strategia di aiuto, di sensibilità, ma anche se volete in termini egoistici, utile anche per noi.